Siamo costretti di comunicarvi di restare a casa, la situazione è molto grave, tenere i bambini a casa, gli anziani restano a casa, uscite di casa solo per motivi gravi. Se qualche persona manifesta sindrome di un anziani, febbre e tosse, deve restare a casa, chiamare urgentemente il medico di famiglia e non recarsi all'ospedale, la cittadinanza tutta è invitata a restare a casa.